La stanza delle meraviglie, lo dice la parola stessa, è una meraviglia perché si entra e si viene colpiti, travolti, sommessi da musiche, suoni, parole e un luogo dove chiunque, chi conosce la nostra tradizione ma anche ma soprattutto chi non la conosce, in mezz'ora raccoglie questa enorme, come dire, cultura, questa enorme spettacolarità, questa enorme poesia, musicalità che noi abbiamo da regalare. Napoli naturalmente ha una tradizione antica che parte da 400 dai canti sacri per attraversare la musica del 1700 e arrivare alle canzoni del 900 che ci hanno resi famosi nel libro. Adesso finalmente grazie alla ragione che ho fatto e al nostro governatore De Luca abbiamo il tempio della canzone napoletana. Grazie a tutti.